Come ti chiami? Michele Masuccio Quanti anni hai? 45 Dove vivi? A Dariano Irpino in provincia di Avellino Che cosa hai mangiato a colazione? Pane e olio ovviamente Cosa vedi fuori dalla tua finestra? Gli oliveti e le colline verdi Mostrami il tuo miglior sorriso Cosa preferisci? Biologico, integrato o tradizionale? Integrato Hai animali? Sì Quali? Polli, galline, conigli, cani, gatti Pecora, mucca o maiale? Mucca Imita il suo verso? Mò Dove vai in vacanza? Mare, campagna o montagna? Sulle colline verdi dell'Ispinia